Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. La questione sui mercati cripto si sta complicando un poco. Abbiamo visto questa settimana i mercati avere molta difficoltà, quindi sia Bitcoin sia ETH. Siamo in procinto della chiusura del mese di luglio e stanno cercando di resistere i livelli di supporto più importanti per quanto riguarda soprattutto Bitcoin, ma come vedremo oggi, probabilmente questa settimana sarà la settimana che farà un minimo in chiusura della settimana più basso di tutti i precedenti. C'è stata anche la questione Binance. La Consob risponde, secondo Stato, dopo UK, a indicare un punto interrogativo sulla regolamentazione di Binance. Lo andiamo a vedere oggi perché cerchiamo di capire che cosa è successo e proviamo anche a trovare una soluzione per chi si sta avvicinando in questo momento ai mercati delle cripto, una soluzione tutta italiana per evitare appunto queste problematiche e anche altre di altra natura. Poi andremo a vedere anche la struttura di ETH e facciamo un po' il punto della situazione su questa settimana che sta passando, ragazzi. Prima di andare, come sempre, io vi chiedo di iscrivervi al canale e se ancora non l'avete fatto, ragazzi, è that's it. Ok, ci siamo. Andiamo direttamente a fare un po' il punto della situazione su quelli che sono i grafici. Intanto vi faccio vedere anche questa cosa qui. Allora, iniziamo con la questione di Binance. Binance sì, Binance no, Consob avverte che cosa è successo. In realtà quello che è successo è semplicemente che la questione che la Consob ha indicato come i derivati e soprattutto gli stock token. Su questo, lasciatemelo dire, ragazzi, avevo serissimi dubbi anche io quando Binance ha indicato gli stock token come possibilità di fare trading sulle azioni perché ovviamente sono paresemente dei security token e quindi la questione dei security token è molto delicata. Insomma, ci sono delle regolamentazioni da rispettare. Quindi quello che è stato, che è successo in pratica è che l'exchange più grande in termini di volumi ha subito un richiamo da Consob per quanto riguarda questo tipo di operatività che probabilmente sarà sospesa a breve. Quindi i fondi sull'exchange sono a questo punto da ritenere a rischio, sì o no, che cosa sta succedendo, ragazzi. Beh, allora la questione legata sempre a un exchange come Binance, insomma cinense, insomma e quant'altro e da spostare dei fondi dall'Italia ad altri paesi all'estero probabilmente è sempre più sotto l'occhio del minino. Già avevamo visto alcuni istituti bancari che hanno vietato e bloccato i trasferimenti della liquidità. La opinione giusta o sbagliata, voi cosa ne pensate da questo punto di vista? È giusto? Loro dicono per tutela delle eventuali frodi, della, insomma, possibile eccetera. Oppure semplicemente hanno paura che poi questi fondi non ritornano più e quindi, insomma, pro e contro. Cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti. Ma per sopperire, diciamo, anche a questo tipo di problematiche, ragazzi, esistono degli exchange italiani. Ho già parlato qui sul canale di alcuni tipi di exchange. Oggi vi rimetto in pole position all exchange di Young Platform, che è stato il primo exchange italiano di cui io ho parlato lo scorso anno quando ho spiegato come si poteva utilizzare Step Drop per guadagnare dei token, Young Token, camminando, ragazzi. Ok, trovate il video nel mio canale, anzi facciamo una cosa e ve lo linko sopra la mia testa. È un video un po' vecchiotto di qualche anno fa, un annetto e mezzo fa. Sto prendendo sempre più uno spunto sulla considerazione degli exchange italiani come piattaforme per poter andare a sviluppare le nostre strategie di trading. Nel caso di Young Platform mi piace molto la questione che loro abbiano agganciato questo tipo di conto che è il Young Platform Pro che sta, diciamo, è già partito, ragazzi. Io lo sto utilizzando già da un po' perché poi la struttura di Young Platform Pro potrebbe, in effetti, sopperire anche alla questione legata al trading perché molte applicazioni come quelle legate al Coinbase normale, ragazzi, sono delle applicazioni che magari ci consentono di entrare nel mercato delle cripto ma non di essere trader pro, appunto. Quindi Young ha capito questa cosa, mi è piaciuta moltissimo perché ha diviso quello che è l'exchange dalla parte più easy e poi invece la parte pro che è quella proprio dedicata ai traders un po' come Coinbase, lo potremmo definire un po' il Coinbase italiano se non che, tra le altre cose, è uscita anche quella che è l'applicazione mobile da pochissimo, ragazzi, con un super coupon che loro stanno dando a chi si registra. Allora, intanto io vi lascio il link in descrizione per prendervi questi 10 euro del coupon per registrarvi con la loro applicazione mobile e poi potete iniziare ad acquistare o gestire alcune cripto in maniera molto easy, molto friendly e soprattutto, ragazzi, iniziare a utilizzare una piattaforma italiana perché vi dà questi vantaggi intanto non mettete fuori, non fate un bonifico estero con i vostri money e quello ha diversi vantaggi intanto regolamentazione e quant'altro e poi c'è anche il vantaggio legato al quadro RV perché il quadro RV nella dichiarazione dei redditi va presentato in quanto i nostri depositi sono all'estero e quando sono all'estero va indicato nel quadro RV negli exchange italiani questo problema non c'è quindi comunque semplificano un po' la vita quindi iniziamo a utilizzare Young vi faccio vedere anche quella che la loro applicazione eccola qui, ragazzi questa è l'applicazione Young sull'iPhone come vedete qui ci sono una serie di possibilità intanto poi mi è piaciuto anche il discorso che loro abbiano tantissime altcoin infatti la parte dell'exchange pro la sto valutando, ragazzi e porterò sicuramente una review nei prossimi mesi in termini estremamente professionali poi mi piace tantissimo la parte academy io questo lo dissi già dal precedente video qui avete una serie di tutorial su quelle che sono le spiegazioni su come funziona blockchain come funzionano queste cose insomma in generale questo per esempio è l'ATM insomma ragazzi mi piace moltissimo la questione di questo exchange vi lascio il link in descrizione se qualcuno di voi lo vuole aprire quindi dal link in descrizione vi prendete 10 euro di coupon basta fare il KYC e depositare 50 euro e vi danno 10 euro di coupon quindi sfruttatelo ragazzi insomma alla fine è un regalo potete comprare delle mini cripto oppure semplicemente vedere come funziona la questione allora andiamo invece a vedere quelli che sono i grafici nella questione di oggi e spostiamoci subito su Bitcoin allora Bitcoin che cosa sta succedendo in questa settimana abbiamo visto una laterale ribassista abbastanza evidente continua ad esistere questo supporto ma viene toccato troppe volte e quando il supporto viene toccato troppe volte solitamente poi crolla questo è un problema legato abbastanza diciamo semplice ragazzi allora un supporto è tale fino a quando il mercato lo tocca e rimbalza in maniera vigorosa 1-2 volte già il triplo minimo così detto è una figura estremamente debole ma se noi andiamo poi a utilizzare un supporto per 4, 5, 6, 7, 8 volte non è più una questione di fare un doppio minimo o quant'altro ma diventa semplicemente un'oscillazione questo supporto a 30.000 si sta indebolendo e questa è la questione quindi o il mercato reagisce vigorosamente alla ripartenza di questo ciclo mensile che dovrebbe chiudersi intorno al 18 quindi vi faccio questo video oggi invece del solito aggiornamento lunedì perché potrebbe esserci una reazione entro pochissimi giorni quindi se questa situazione qui di questi doppi cicli viene a terminare in questo modo e poi riparte un'altra struttura allora ok ragazzi altrimenti continuerà questa fase di oscillazione barra debolezza come vedete in questa area di buy è stata eseguita per quanto riguarda il mio video di luglio dove vi dicevo il mio buy the dip quindi è stato eseguito intorno ai 31 e qualcosa vediamo che cosa succede perché me l'ha eseguito proprio un paio di giorni fa adesso non ricordo uno o due giorni fa poi a fine luglio chiuderò questa operazione oppure semplicemente la mando in stop come le altre queste sono operazioni di trading puro ragazzi quindi mi raccomando ricordatevi non sono consigli finanziari andatevi a vedere anche il mio video sul buy the dip per tutto il mese di luglio bene allora per quanto riguarda poi un altro grafico mi piace farvi vedere questo qui ragazzi allora questo è un grafico significativo come vi accennavo nella intro di questo video aggiornamento la parte della settimana questa che vedete la settimana del 12 luglio è la peggiore di tutte le ultime perché va a configurare un livello in questo momento potrebbe configurare un livello di chiusura il più basso dal maggio dal metà maggio quindi da due mesi ragazzi ok questa cosa è importante perché al di là di quelle che sono le questioni legate ai minimi delle shadow di un mercato quindi i minimi che toccano un mercato quello che tocca un mercato quello che è rilevante poi anche la chiusura ragazzi soprattutto la chiusura legata alla questione della settimana della candela settimanale perché le chiusure dei grafici ragazzi hanno molto più importanza più importanza delle shadow scusate ragazzi mi arrivano 3000 notifiche e poi mi distraggo allora vi faccio vedere questa questione in maniera molto chiara come si vede in maniera evidente utilizzando il grafico a linea questa settimana è la peggiore degli ultimi due mesi quindi la situazione si sta deteriorando perché il supporto di chiusura settimanale che era 34k sta per essere breccato in chiusura settimanale proprio in questa cioè questa è una settimana che chiuderà fra qualche giorno se bitcoin non riesce a tornare sopra il livello di 34k farà il primo minimo con chiusura settimanale più basso degli ultimi due mesi quindi farà un nuovo minimo aggiorna in pratica ragazzi i minimi indicando che il trend discendente che era iniziato dallo scoppio di questa fase qui continua in pratica ragazzi che continua dopodiché le prossime due settimane saranno importantissime perché se il mercato non ci darà una reazione abbastanza importante ritornando diciamo in fase anche di congestione però su livelli un po' più alti di questi ma continuerà una fase di bassista diventerà complicatissimo gestire poi i 29 e 5 o i 28 quindi siamo agli sgoccioli siamo a quello che è praticamente uno snodo centrale di questa fase con tutto quello che abbiamo detto nei primi sei mesi dell'anno cicli annuali cicli mensili e quant'altro perché proprio in questi ultimi giorni si sta giocando la partita quindi ancora a luglio non c'è una problematica perché il mercato poteva fare questa oscillazione così come sta facendo quindi non è anomalo niente di strano l'importante però è vedere nei prossimi cicli mensili quindi dalla fine di questo di luglio in poi vedere una struttura di un mensile rialzista questo è fondamentale ragazzi ok ma state attaccati sul canale e vedremo tutte queste cose anzi vi faccio anche vedere questa nuovo il mio nuovo canale instagram ragazzi a tradingon.it ho iniziato a fare anche dei reel noi so fare ma ci sto provando sono fantastici io mi trovo benino però perché mi piace questo modo di comunicare l'altro giorno ho fatto un reel insomma per parlare un po' con voi quindi registratevi anche su instagram perché secondo me da agosto in poi saranno mesi di fuoco io qui ve lo dico e qui ve lo nego andiamo a guardare al volo anche ethereum ethereum che mi ha negato una che era una struttura di pattern che stava facendo proprio su questo grafico ho fatto un video la scorsa settimana me l'ha negato però e quindi è andato in stop soltanto un pezzettino quindi ho dimezzato ovviamente la perdita sono pronto già a rientrare con una nuova operazione era insomma avevo fatto un'operazione da un eth e mezzo ragazzi quindi parliamo di 100 100 dollari 150 dollari però ha negato quello che era la questione che ha negato proprio questo pattern di reazione perché questa candela facendo una candela rossa ha negato la precedente reazione e qui è andato in stop così come succede appunto quando si cerca di anticipare il mercato salendo in buy the dip abbastanza normale abbastanza naturale anche questa cosa per quanto riguarda la struttura di chiusura ciclica di eth eth indicherebbe una data più lunga di bitcoin quindi intorno al 22 quindi è possibile che questa fase di ribasso di eth potrebbe perdurare anche fino a questa zona anche qui e anche in questo caso è fondamentale assistere a una reazione di questo tipo e soprattutto avere una price action di massimi e minimi crescenti perché anche th deve dare una giusta reazione quello che mi piace è che però anche qui abbiamo un livello veramente importante di break quindi 2350 2004 se il mercato riuscirà a risalire e a breakarlo invertirebbe il trend di medio periodo e quindi ragazzi saremmo fuori da questa fase di pericolo quindi il mercato sta lasciando le briciole e noi le dobbiamo cogliere ok ragazzi per oggi è tutto fatemi sapere invece voi cosa state facendo sul mercato al di là degli holders e qui parliamo un po' di trading e soprattutto cerchiamo di leggere tra le righe del mercato fatemi sapere anche voi cosa state facendo noi ci rivediamo nel prossimo video ciao a tutti